Poi andando più in su nella scala sociale ci sono i commercianti, i negozianti, i professionisti come per esempio gli ingegneri, i medici, che questi guadagnano di più e soprattutto evadono le tasse. In parte sicuramente tutti pagano meno tasse di quello che devono e quindi stanno meglio, mentre gli operai e gli impiegati pagano le tasse che devono pagare, non c'è scampo. Quindi questi altri sono un po' privilegiati e sono anche invidiati perché riescono a non pagare tutte le tasse che devono pagare e quindi guadagnano più degli altri e stanno meglio degli altri. Poi sopra di questi ci sono quelli che stanno meglio, che possono essere grandi professionisti, medici, primari di ospedale, grandi dirigenti delle industrie, oppure i politici anche. E poi ci sono i professionisti e quelli che, come posso dire, quelli che fanno imprenditori, gli imprenditori che in genere chi più chi meno evade le tasse, cerca di non pagare le tasse, dai piccoli ai grandi. E questi sono quelli che in genere stanno meglio, certo poi ci sono anche quelli che stanno bene di famiglia, che hanno un patrimonio di famiglia. In cima a tutti poi ci sono i professionisti del calcio, della musica, dello sport, del cinema, che guadagnano tanti tanti soldi. E allora per pagare meno tasse molti di questi prendono una residenza all'estero, per esempio a Monte Carlo o da qualche altra parte dove riescono a pagare meno tasse. E' tutta una corsa per pagare meno tasse possibile in Italia. Chi può, chi non può, come gli impiegati e gli operai, quelli le pagano le tasse. Gli altri professionisti cercano tutti di pagare meno possibile in qualsiasi modo, cercano, trovano, fanno. Ciao!